Ciao, in questo video andremo a vedere le note sulla patch 4.3b e la prima domanda che io mi faccio e che voi vi farete è La Riot gioca al suo gioco? Perché secondo me no, o quantomeno non chi dovrebbe Ci sono una quantità di buff che adesso andremo a vedere che non capisco minimamente Certo, come sempre sappiamo che i buff e i nerf sono su scala globale, quindi anche per altri server Pick rate, win race e tutto quanto, ma non ha veramente senso Comunque prima di tirare fuori i forconi andiamo a vedere la prima informazione che vedete qui sullo sfondo Cioè il nuovo Wild Pass, sappiamo che adesso i Wild Pass dureranno di meno e saranno appunto più spesso E infatti vedremo il Wild Pass di Yumi che arriverà, c'è scritto il 31 agosto Quindi la notte tra il 31 agosto, tra il 30 e 31 visto che è 31 agosto a mezzanotte E dunque mi raccomando se dovete riscattare cose con trash, ecco considerate che avete circa un 8 giorni più o meno E personalmente credo che sarà il primo Wild Pass che non andrò a prendere perché non mi interessa molto della skin di Yumi E quelli precedenti li ho presi ma vediamo se nell'emporio magari ci sono skin vecchie che potete provare a prendere E per le quali potrebbe valere la pena anche se non vi interessa Yumi Ma andiamo ora a vedere anche il Join the Fluff to Shadow Isle che è l'evento Come sempre non ci danno mezza informazione ma è sulle Shadow Isle, sulle Isole Ombra Che inizierà il 7 settembre Questo probabilmente perché poi arriverà a Ecarim che sappiamo appunto arrivare a teoria il 20 settembre Se non cambiano date in maniera particolare e quindi ci preparano a queste Isole Ombra E il primo campione che vanno a buffare è Aatrox perché sì, non si sa perché Poverino stava proprio soffrendo quindi in barrel lane a quanto pare non è abbastanza forte Quindi lo andiamo a far curare 10% in più sui minion e gli facciamo fare un 10% di danno in più sui minion Va bene che non sia danno sui campioni quindi è ok come buff non è una roba assurda Ma onestamente non credo ce ne fosse il bisogno Poi andiamo su Akali che potrebbe starci, cioè non sono un fan dei buff su Akali Ma ci potrebbe stare perché comunque viene giocata un po' di meno di recente E soffre un pochino di più nonostante se siete main fate il devasto Che cosa vanno a fare qui in questo caso? Vanno a potenziare la sua velocità di movimento tramite la passiva Quando voi ad esempio andate a piazzare la prima abilità su un nemico E vi compare quel cerchio che dovete raggiungere per poi fare l'attacco base potenziato Ecco vi darà più velocità di movimento mentre andate fuori dal cerchio per attivarla il più velocemente possibile Ed inoltre la velocità di movimento che prenderete uscendo da quel cerchio sarà aumentata Quindi andiamo a vedere che da 30% e basta diventa 30, 40, 50 e 60% Quindi andrà a muoversi molto molto velocemente E ovviamente sarà più facile colpire la passiva e successivamente andare a pascolare in giro Inoltre giusto per non farci mancare niente andiamo ad abbassare il costo di energia della prima abilità Non è una roba assurda nel senso che all'inizio viene abbassata ma poi diventa identica a quella attuale Considerando che viene alzata quasi sempre la prima abilità per prima Io direi al 99% dei casi Anzi se giocate a Kali e alzate un'abilità che non è la prima fatemi sapere perché Quindi comunque già dalla metà inizia a diventare piuttosto simile a come adesso Però è comunque un va Poi andiamo su Akshan che effettivamente viene giocato poco È molto forte nelle mani giuste ma viene usato appunto un po' pochino Quindi che cosa vanno a fare? Dicono è forte in early, già lo sappiamo Diamogli un po' di late, abbuffiamolo un po' in late Quindi l'attacco per livello diventa da 4,55 a 5,5 Quindi andrà ad avere quel 18 circa di attacco in più alla fine del game O 16, la mia matematica è come sempre imbarazzante E poi andiamo a vedere invece un buff sulla sua suprema Praticamente vanno ad aumentare il danno minimo che fa passando da quello base 20, 25, 30 A 20, 30, 40 Quindi 10 in più poi a livello massimo Più 10% di attack damage Quello rimane identico Il danno massimo andiamo a vedere l'attack damage percentuale rimane identico Ma anche qui vanno ad aumentare il valore flat Che a livello massimo appunto vedete diventa 120 e 160 Considerando che tira un sacco di colpi potrebbe essere un buff interessante Andiamo poi avanti su Fiora Che diventerà ancora più una splitting machine Infatti decidono di dare danno sulle torrette con la sua prima abilità Cioè voi andrete a fare la prima abilità è il dash E farete più danno sulle torrette Quindi che bello, che bello potenziare lo splitting game Grazie Riot, vi voglio veramente tanto bene Andiamo poi su Irelia Che diventerà ancora più mortale con la sua seconda abilità Sapete che quando andate a premere la seconda abilità di Irelia Riducete i danni che prendete Infatti questa riduzione viene potenziata La riduzione del danno passa dal 50 più il 7% dell'ability power Diventa 60 più il 7% dell'ability power Comunque è un buon buff sulla sua riduzione dei danni In cambio vanno ad abbassare il base damage qui O meglio alzarlo all'inizio 10 diventa 20 30 diventa 35 Poi 50 rimane identico E poi all'ultimo livello 70 diventa 65 Considerando che alziamo per ultima questa abilità È un buff su tutta la linea praticamente E prendere così tanto danno in meno È sicuramente un tool molto importante di questo campione Passiamo poi al buon Jarvan Che viene buffato nella sua versione tank Sanno già che viene giocato tanto in letality E dicono ma noi lo vogliamo vedere un po' più tank rispetto al solito Quindi che cosa vanno a fare Vanno sulla passiva e fanno in modo che faccia più danno Cioè il cooldown interno della passiva sullo stesso bersaglio Passa da 6 secondi a 5 secondi Perché tanto se siete Jarvan letality Shottate e ve ne andate Non restate a lungo a fightare Mentre se siete Jarvan tank State lì a tirare le sabonge Nel frattempo andiamo sulla seconda abilità Che è lo scudo Che viene buffato Cioè la quantità di scudo che andate a prendere Vedete è 80, 120, 160, 200 Diventa 80, 120, 160, 200 Ma ci vanno ad aggiungere il 4% della vita massima Questo perché se andate a costruire oggetti HP Perché siete tank Andrete ad avere uno scudo più grosso Inoltre ci mettono la ulti da Chad Cioè se voi fate la ulti E bloccate qualcuno Il danno dei nemici è ridotto del 12, 16 o 20% All'interno del suo cataclisma Questa è una cosa importante Perché non è specificato a Jarvan Il danno è ridotto Almeno qui in queste patch notes Questo vorrebbe dire che va a ridurre L'attacco generale di quei nemici Nei confronti di chiunque O solamente nei confronti di Jarvan Questa è una cosa importante Io credo in generale Perché di solito sono abbastanza precisi Ma ad ogni modo è Chad Jarvan Che si butta in mezzo Rimane il più a lungo possibile A mantenere le persone bloccate là dentro Che faranno quindi anche meno danno Poi passiamo al buon Jace Che riceve un buffone Cioè lo nerfano un pochino per la jungle Però è un bel buff Perché andrà a fare più danno di base Da 52 e 54 Sulla sua seconda abilità Appunto il nerf in jungle Che farà 70% Invece del 100% dei danni Con la sua seconda Sulla terza Vanno a potenziare Il damage ratio di base Proprio vedete La percentuale In base alla vita massima Degli avversari Quando date la martellata Voi fate un danno In base alla vita massima Degli avversari Ecco quello lo vanno ad alzare Infatti vedete 10, 12, 15, 17, 20 Prima era 8, 20 Quindi il danno massimo Rimane identico Ma nel frattempo Viene buffato nel mezzo E poi lasciano comunque identico Il bonus attack damage Che rimane 100% Però buff comunque In generale sull'abilità Inoltre vanno però A nerfare il danno Che fate ai mostri Cioè sui mostri della jungle Andrete a fare Un danno minore Perché vogliono che Sia più forte in corsia E non diventi troppo Broken in jungle Infine Un cambiamento importante Che mi piace molto Sulla quarta abilità Cioè sulla sua suprema Il cambio di Tra martello e cannone Infatti quando andate A mettere ad esempio Il martello Andrete ad aumentare La vostra armatura E la vostra resistenza magica Questa Questo aumento Era di 3 più 2 Per il livello Adesso è 3 più 2 Per il livello Più il 9% Dell'attack damage bonus Quindi andrà a prendere Anche dal vostro attack damage E quindi avrete più resistenze E secondo me È un ottimo cambiamento Non credo che Jace Avesse bisogno Di un buff Secondo me Era in un buono stato Del game Però boh A sto punto Ce lo prendiamo E facciamo il devasto Con Jace Ma ora arriviamo Al buff più No sense Della patch Credo O almeno fatemi sapere Giù nei commenti Quale pensate Sia il buff più Non sense Di questa patch Cioè karma Che sta una crema Funziona support Si gioca full ap Funziona mid Nelle giuste cose Cioè secondo me È molto forte Anche se non viene Piccata così tanto Ma loro La vanno a baffare Le baffano la prima abilità Aumentando il danno Che fa Aumentano il danno Anche con la passiva Con il mantra attivo Della prima abilità Così tanto per Poi andiamo Sulla terza abilità Dove potenziano Lo scudo Quanto scudo Dà E quanto Prende dall'ability Power Anche con la passiva E lo riot Cioè la La motivazione È che comparata Agli altri Mid lane mages Karma non Tiene così bene La mid Secondo loro C'è un piccolo Problema Perché la giocano Full ap Anche in bot Quindi bot Sarà ancora più Rotta come support E probabilmente La mettiamo In tier sp Poi andiamo Su miss fortune Che potrebbe starci Come buff La odio profondamente E preferivo Se se ne stava bene Nel dimenticatoio Ma credo Che ci stia Come buff Perché che cosa Vanno a fare Vanno ad aumentare Le statistiche base Quindi armatura Abbaffata da 30 A 34 L'armatura per livello Da 3 e mezzo A 4 Il danno Sulla prima abilità Che passa da 150% A 100 Prima è 130 A 140 Quindi inizialmente Leggermente nerfato Poi 150 Diventa pari E poi 160 Quindi diventa Abbaffato Considerando che si va A alzare subito Questa come abilità Dura poco La parte di nerf Qui Poi c'è la seconda abilità Invece che abbiamo Miss fortune Che va a correre Che cosa fanno Allora prima Miss fortune Correva se per 5 secondi Non aveva preso danno Prendeva movement speed Dopo altri 5 secondi Prendeva altra movement speed Adesso Se non prende danno Per 4 secondi Quindi buff Stessa movement speed Ma 3 secondi dopo Riprende altra movement speed Quindi invece di essere 10 Diventano 7 secondi Totali Per i due buff Quindi comunque si corre prima Ed inoltre la movement speed Che va a prendere Viene aumentata Cioè infatti Vedete che è 80 85 90 95 Cioè è diventata Scusatemi 80 85 90 95 Da 60 70 80 90 Quindi comunque più movement speed Più spesso Ed inoltre anche un buff All'attack speed Che dà quando attivate L'abilità Che da 30 90 Diventa da 45 90 Quindi aumentano tutti i livelli Intermedii Ma quello finale Rimane identico E credo appunto Confermo che ci sta Secondo me come buff Su MF Visto che è uno degli Add carry Che metto più spesso In tier Rispetto agli altri Poi andiamo su pike Che secondo me Stava benissimo Così Ma buffiamo anche pike Già che ci siamo Allora per essere precisi Lo vanno comunque a nerfare In jungle In mid Facendo in modo Che faccia meno danno Ai minion E meno danno ai mostri Con la sua prima abilità Però contemporaneamente Lo vanno a buffare A quanto prende Di attack damage Per livello Da 2,65 A 3,5 E il danno Che fa la prima abilità In generale Quindi non ai mostri Non ai minion Ma ai campioni Andandolo a buffare Di 10 per livello Poi andiamo sulla terza abilità Dove il danno Ai mostri Viene ridotto Dal 100% Al 50% Lo stun Viene aumentato Da un secondo 25 A un secondo e mezzo E il danno Di base Anche qui Aumentato di 10 Per livello Quindi un bel buff A pike support Che già carri abbastanza E così carriera di più Andiamo poi a vedere Riven Che viene nerfata In jungle E buffata Per la solo lane Credo che ci possa stare Cioè nel senso Non sono un grande Estimatore di Riven Ma mi è capitato Spesso di vederla In jungle Molto molto forte Vanno ad abbassarle Il danno Sui mostri Al 50% Della passiva Vanno però Ad aumentare Il danno Di broken wings Che da 15 45 Fino a 90 Diventa 20 45 Fino a 95 Quindi un 5 In più Per livello E la percentuale Di attack damage Anche qui viene aumentata Di un 5% In più Per livello Quindi un bel po' Di danno Di danno in più Sulla prima abilità Specialmente Andando avanti Con la partita E poi abbiamo Anche un secondo Di buff Sulla sua terza Abilità Che è quella Che le permette Di lasciare In giro E di darsi Lo scudo E questo è un buff Importante Perché se consideriamo Anche la velocità Di abilità Che spesso Si va a comprare Riven potrebbe diventare Veramente imprendibile Poi andiamo su un Buffino A Sion Semplicemente Vanno a aiutarlo In laning phase Dandogli ben 10 danno in più Sulla terza abilità Beh si avete sentito bene 10 danno in più Sulla terza abilità E consumerà Un pochino Meno di mana Il grande buff A Sion Ogni volta fanno Questi micro buff A Sion Giocatelo E dai E dai un po' Guarda che buff Però cioè insomma Ci sta Alla fine Viene piccato il giusto Non è problematico Che è troppo forte Non credo neanche Che sia troppo debole E ci può stare Come buff Andiamo poi su Zed Che gli fanno anche lui Un buffino Così tipo Ci mancava qualcun altro Chi ci buttiamo oggi Ah Zed Sì buttiamoci Zed Grazie E gli vanno a togliere Un secondo Anzi tre secondi di cooldown Sulla prima abilità Che poi diventano due Cioè scusa Ce la posso fare Cioè vanno ad abbassargli Il cooldown Sulla sua seconda abilità L'ombra che va a piazzare Con la quale si può scambiare È un cooldown Buffato progressivo Fino a diventare identico In late game Cioè parte da 20 secondi Diventando 17 Quindi tre secondi In meno che sono tanti Poi 18 diventano 16 16 diventano 15 E 14 rimangono uguali Quindi è per dargli Un po' più di Scambiamenti di ombre Fino a che non ha maxato L'abilità Poi andiamo ai cambiamenti Al gameplay Quindi i cambiamenti Alle rune in questo caso Vanno a baffare Mark of the week Non capisco perché Abbassando il cooldown Da 20 a 15 secondi E non credo fosse necessario È una buona runa È usata spesso Fa dei buoni danni Perché? Perché l'hanno baffata? Non si sa Abbiamo abbassato il cooldown Così puoi prendere più danno E dai Boh vabbè Zero spiegazioni Solo spiegare perché Cioè come funziona questo buff Grazie So leggere che da 20 diventano 15 secondi Poi andiamo sullo shield bash Che invece viene potenziato E forse ci potrebbe stare Viene utilizzata un pochino Come runa E non è così broken Quindi secondo me ci sta come buff Va a fare più danno Con il base damage Per quanto riguarda Ad esempio Quanto fa in early game Perché quando vanno ad aumentare Il danno base Di solito è più impattante In early game Ma contemporaneamente Gli abbassano un po' Il bonus attack ratio Dal 20 al 15% Per il late game Per evitare che sia troppo forte Poi andiamo su un bel nerf succoso Al glassy all augmenter Una molestissima E spammata in bot Cioè vanno ad abbassare Quanto slow ha Passando dal 2% Della vita bonus Più il 20% Qui si scrive bonus Scusate più 20 E diventa 1,5% E il 20 rimane identico Quindi comunque Un po' meno di slow E un po' di riduzione Del danno Che invece di essere 15% Diventa 12% E direi grazie Perché è veramente broken Questa runa Poi passiamo alla runa Più buffata di sempre Cioè pathfinder Quella per correre sul fiume Che viene buffata Letteralmente una volta Ogni 3 mesi Più o meno Era partita bassissima E sta diventando altissima Ma ancora non viene giocata Abbastanza E infatti vanno ad aumentare La movement speed Da 30 a 50 Di movement speed bonus Quindi comunque un bel po' E anche il mana È rigenerato Da invece di E la vita è rigenerata Da 1,5 e 1,5 Diventa 2% Per entrambe Vediamo se sarà più usata Non lo so Per ora non credo Infine l'ultimo cambiamento È sul rift herald Anche se non c'è scritto Come era prima Io non me posso ricordare Tutto a memoria C'è scritto che abbiamo Aggiustato il danno Che fa il rift herald Alle torrette Il primo colpo È 80% Della vita massima E il secondo colpo È 40% Della vita massima Quindi forse Quello che intendono È che il secondo colpo Poco poco ci arriva Non distrugge completamente La torretta Perché di solito Comunque va a levare Una buona percentuale Lo avevano credo Cercato di nerfare Facendo in modo Che l'herald perdesse Tantissima vita E che fosse difficile Farlo arrivare Alla seconda torretta Ma hanno visto Che quando arriva Alla seconda torretta Fa troppo danno E quindi mi viene da pensare Che abbiano deciso Di abbassare al 40% Della vita massima Sulla seconda torretta E poi ne approfitto Per ricordarvi Che ho attivato Gli abbonamenti Quindi se volete capire Come funzionano C'è un post community Che li spiega Ringrazio anche chi Si è abbonato Sia solo per supportare Con l'abbonamento da 2€ Sia chi ha fatto Le richieste dei contenuti Con quello da 4,99 O quello da 9,99 E vi ringrazio sempre Per tutto il supporto Anche ovviamente Per quello Completamente gratuito Come commenti Che mi fa piacere leggere E rispondere Come like O altre forme di engagement Su YouTube Che aiutano sempre Quindi vi ringrazio tanto Vi auguro una buona serata Delle buone rank Ed ci vediamo Al prossimo video Ciao